E' il Claudio! E' il Claudio! Buono! Vai, Franciotto! Vai, Franciotto! A San Canciotto Nicola Calabini Giovanni Guita Si preparano Franco Salerno e Almeida Che ha detto che è il tuo corpo tra noi Prova Claudio! 20 secondi! Prova! Prova Claudio! Che è finita! Prova a passare! Prova Claudio! Apriamo la partita prima che non arrivano questa parte è questa parte non ci sono non c'è lo so che è nulla che è che è la parte di disciplina in razzola e del che è allora la parte di d'acqua di Grazie, grazie. 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 Grazie. Grazie, grazie.